A partire da lunedì 6 luglio il decreto rilancio inizia la fase conclusiva del suo iter parlamentare. Dopo l'esame in commissione bilancio, terminato venerdì 3 luglio, il provvedimento passa all'aula della Camera dove dovrebbe essere messo ai voti entro fine settimana in modo da poter essere poi trasmesso al Senato subito dopo. Gli emendamenti approvati in commissione rivestono tutti un certo interesse perché sono finalizzati a facilitare l'avvio del nuovo anno scolastico. Si deve a Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle l'emendamento che affronta la questione degli ATA ex LSU che al momento hanno un contratto part time con uno stipendio davvero modesto. L'emendamento prevede una soluzione parziale però del problema perché consente di attribuire a questo personale un ulteriore incarico in modo da arrivare a garantire 36 ore settimanali di servizio. La misura però vale soltanto fino al 31 dicembre. Con un emendamento a firma della deputata pentastellata Vittoria Casa viene riproposta per il periodo settembre-dicembre 2020 la possibilità di assumere mille assistenti tecnici da mettere a disposizione delle scuole del primo ciclo. Ma la modifica più importante è quasi certamente quella di un altro emendamento della stessa Vittoria Casa che consentirà l'assunzione a tempo determinato di altri docenti e ATA. Per la precisione l'emendamento prevede la possibilità di derogare nei soli casi necessari al rispetto delle misure di sicurezza e ove non sia possibile procedere diversamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dalle norme in vigore. In pratica questo significa che si potranno costituire classi con un numero ridotto di alunni sempre se ce ne sarà la necessità e se non si potrà operare in modo diverso. Si potranno anche attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e ATA, posti che non saranno disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni annuali. Ma attenzione perché questa novità non equivale ad ulteriori stanziamenti in quanto per la copertura della spesa bisognerà fare riferimento alle somme già previste dall'articolo 235 del decreto e cioè 400 milioni di euro per il 2020 e 600 per il 2021. E c'è anche un'altra clausola. Laddove dovesse essere sospesa la didattica in presenza tutti questi incarichi dovrebbero essere revocati. C'è poi l'emendamento approvato anche dalle opposizioni ma non dal Movimento 5 Stelle per aumentare i contributi alle scuole paritarie. Il decreto originario prevedeva uno stanziamento complessivo di 150 milioni con la modifica approvata dalla commissione bilancio si arriva a 300 e proprio per come è finita la votazione cioè senza il voto favorevole del Movimento 5 Stelle come è facile immaginare questo emendamento ha provocato molte polemiche. Una curiosità finale c'è un emendamento a firma di Maurizio Lupi del gruppo misto con cui viene assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore Salvatore Quasimodo di Magenta. Al fine dice l'emendamento di abbattere i rischi connessi alla diffusione del Covid-19. Evidentemente questa è una scuola italiana dove ci sono particolari problemi. Bene noi ci fermiamo qui con questo video noi iniziamo la nostra fase estiva quindi questa settimana il video del giovedì non andrà in onda. Ci rivediamo giovedì prossimo ancora per tutto al mese di luglio. Ovviamente voi continuate a seguirci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it e soprattutto continuate a scriverci a mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.